Amici, buonasera, riceviamo ora una dichiarazione ufficiale del portavoce del nostro ex premio attuale numero 2, nella quale si dice, il bravo buon aiuto in po' in difficoltà, si dice che non ha potuto presenziare a pubbliche dichiarazioni in merito al cataclisma odierno perché intorno alle 4, alle 4 e mezzo mentre stava guardando le prime proiezioni gli è rimasto un osso di traverso, questo naturalmente gli ha creato problemi diciamo di afonia, per cui si scusa molto e ha detto che molto probabilmente dirà qualcosa, non si sa bene quando, non si sa bene come, speriamo che la chiuda, arrivederci.